Abbiamo veramente fatto due mesi molto faticosi perché passare dal dilettantismo al professionismo non credevo ma è un'attività davvero pesante. Di questo devo ringraziare, pensate che qui oggi avrebbero dovuto, ho chiesto ai ragazzi che curano la parte amministrativa e la segreteria sportiva di essere presenti perché stanno lavorando circa 13-14 ore al giorno da almeno tre settimane e purtroppo anche oggi non riescono ad essere qui puntuali, penso che arriveranno come usciranno da Muzaro alle 8 e mezza 9 anche questa sera, però arriveranno. È stato fatto un lavoro duro dopo le feste di fine, di inizio giugno, ci siamo subito messi all'opera per tutti gli adempimenti che ormai sono davvero pressanti e importanti e nel frattempo abbiamo dovuto anche costruire una squadra. Abbiamo credo costruito un'ottima squadra, una squadra che molto, insomma, che a me piace perché è una squadra molto tecnica. Ci saranno ragazzi tutti molto bravi tecnicamente e in più abbiamo un allenatore che sa esaltare questo tipo di gioco e questi tipi di giocatori. di giocatori